Andiamo a vedere come sono gli interni, ci manca il pavimento, questo è l'interno, abbiamo ottenuto il lavabo esistente, che chiaramente non ha più la funzione di lavabo, abbiamo messo questa finitura in calce come la calce all'esterno della casa, un colore molto chiaro, qui abbiamo mantenuto l'armadio che abbiamo creato nel muro, abbiamo il focolare, eccolo lì. I giochi di luce, la luce sulla parete, il nuovo solaio, in abete, qui la scala che porta all'altra parte della casa, centrale termica, bagno, qui abbiamo il bagno isolato con la controparete. che verrà riempita di cellulosa, anche qua, il fianco della scala che porta su agli altri piani, i nuovi serramenti di triplo vetro con il botto isolato, qui lo sviluppo della scala che va su, che va sugli altri piani, andiamo a vederli, facciamo qua, questa sarà una camera, guardate che meraviglia.